Ciao amici e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi ci troviamo in Minecraft Dove siamo dei giganti shark Dove ogni essere vivente è davvero mostruoso Ecco infatti già vediamo queste mucche shark Guarda quanto sono grandi Porca miseria Ecco, tu subito già l'attacco shark Già l'attacco Vediamo mucca versus shark Ok io allora ho ucciso questa mucca Ucciso Vieni qua mucchetta Che ho bisogno un po' di carne Uh attenzione ragazzi Perché ogni essere vivente ti dà un qualcosa di buono Ok guarda shark io già ho preso dei stivali in eterite Che cos'è questo? Un blocco di diamante E vabbè io ho trovato a malapena delle ciliegie Ok una spada in eterite io Bello shark ottimo ottimo Vediamo se queste pecore Guarda shark Ma sì ma queste pecore sono Guarda guarda sono davvero Sono più grandi di me Guarda guarda shark Vediamo vediamo cosa mi dà questa pecorella Pecora 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 Guarda io ti dico solo una cosa Sto essendo più fortunato di te Sei più fortunato di me perché? Perché shark cos'hai trovato nella tua spada? Ho trovato la spada in eterite Ho trovato il guscio di tartaruga Che da un botto di protezione Cioè sono più fortunato di te Eh no shark Anch'io voglio il guscio Il guscio di tartaruga Anch'io lo voglio Fa vedere fa vedere Oh quanto sei carino No no bellissimo Il guscio di tartaruga è davvero bellissimo Ok perfetto Allora forse Le mucche ti danno un qualcosa in più Vediamo un po' Vediamo 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 Oh c'è anche il pollo Guardate il pollo ragazzi Questo è per il maiale Ok Il maiale dà minerali però Minerali di schifo Aspetta Ho ucciso la mucca Ok l'uccisa cosa mi ha dato Cosa mi ha dato Un uovo Un uovo Un uovo di qualcosa Non so di che Ma adesso lo scopriremo Il maiale non te lo consiglio Sì infatti ho ucciso Fino adesso solo maiali E non mi ha dato niente Ho un blocco di ferro Ottimo Ho il nome di ferro Bene bene Io uccido quest'altra pecorella Sì ma pure le pecore Non è che ti danno chissà cosa poi Vediamo il pollo Vediamo il pollo Vieni polletto Vieni polletto Non mi sento Pizzo quella che è figata Dove sei? Aspetta che sto cercando di Ok adesso va bene Cosa mi ha dato il pollo? Eh il pollo non mi ha dato Assolutamente niente No aspetta 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 Risaliamo Cerchiamo di risalire Ragazzi vi assicuro Che da giganti È davvero difficile giocare Ok Pizzo ma dove sei? Eh Chuck Sono sprofondato Eccoti Cerco di risalire Ah eccoti Eccomi 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 Chuck me lo regaleresti il guscio di tartaruga? Eh tu mi devi dare stima le tene terite Allora io ti do la terracolta smaltata lime No che cavolo serve no Ok che cos'è questo? L'ampolla di miele Interessante Questo non mi serve Questo via Oh l'uovo di tartaruga marina Vediamo Lo metto subito Questo non mi serve Poi le radici deformate Rame corroso Torcia di pietra rossa Eh no non mi serve Ok Bene Chuck Ma cosa Cos'è creato qui? Cosa Cos'è questa roba? Aspetta ora Fermo fermo Non la tocca Ecco l'uovo Ecco l'uovo Ecco l'uovo Ma non si scrive l'uovo Perché non si scrive? L'hai rotto No tu l'hai rotto Chuck E qua maialino Dammi qualcosa Dammi una spada in diamante In nederite In qualcosa Niente Niente Non mi danno niente Tu pecorello Dammi qualcosa pecorino Vieni vieni Cosa mi ha dato? Ho visto qualcosa in diamante Forse no non mi ha dato proprio niente Rame corroso Terracotta Torcia Niente Niente Proprio niente Niente Ok questo Inza mi dai quella cosa che è in mano? Cosa? Eh quella cosa che è in mano Cosa ho in mano Chuck? Avevi pantaloni in nederite Ok E ma tu sei full nederite Sono full nederite Chuck Cosa ho tutto in nederite? Full nederite Ho solo i pantaloni E Nei strivaletti Stop Wow Io guarda C'ho solo un guscio di tartaruga Sai com'è E tu mi hai detto che è molto potente Allora di cosa ti lamenti? Capito ma in confronto Ai cosi A come si chiama È molto più forte Ok Questa pecorella cosa mi ha dato? Non mi ha dato niente Ok Forse qualcosa Itzo vuoi vedere una magia? Quale magia? Guarda Ora mi vedi qui? Itzo Ecco tu sì Ora mi teletrasporto Dove sei andato? Sono dietro di te Eccoti Aspetta che ce l'ho anch'io Ce l'ho anch'io Ok Guardami Chuck Anch'io faccio le magie Guarda Guarda Anch'io faccio le magie Guarda Ma cosa stanno facendo quei due polli? Guarda 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 Aspetta Si stanno accoppiando Mi sa Vediamo Vediamo se fanno Un cuccioletto di pollo Vediamo Vediamo Si stanno accoppiando E tu vai lì a disturbarli E tu Ecco Ecco Hanno finito Bravo Chuck Hanno finito di accoppiarci Guarda Io non ho parole Sono morti di vecchiaia Ecco lo scheletro Ecco il primo scheletro Ragni Creeper Io ho un letto per dormire Io non ho niente Aiuto Hai un letto in più? Eh no Eh io non ho nemmeno Una balestra Un arco Un qualcosa per poterli uccidere Cioè io praticamente non ho uccidere Vieni Vieni Cosa le terite? Cosa? Ah lascia Grazie Chuck Aspetta che Ucciso Cioè due colpi li uccido Bello Chuck Ottimo Vediamo un po' Quanto è potente Vediamo un po' Vediamo 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 Eh ma lascia È affanto meno potente Ok Però l'ho fatto fuori Vediamo lo zombie In quanto tempo riesco a sconfiggere In quanti colpi Uno Un diamante Due 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 Tre Tre colpi Il creeper Da un botto di cose vuole Cioè mi ha dato un diamante Già fatto Bello Ottimo 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 Ok Chuck Io direi Direi Oh baby zombie Che vuoi baby zombie Insomma tu quanti cuori hai Sei piccolo e nero Oh ma però sei a quanto potente Aiuto Non riesco a colpirlo Aiuto Aiuto Ok Uh Quante cose Io inzo un cuore Io inzo un cuore È un cuore Chuck Tieni Mangia 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 qualcosa Tieni Anch'io devo mangiare Ok Mangio anche il pollo frudo Ok Io invece ho mangiato il coniglio cotto Ottimo Chuck Buono Che ti dà più vitamine Ok E se mai qualcosa da mangiare Sì Vieni Sì Sì Vieni Ti devi accontentare Mi dispiace Ok Chuck Guarda che adesso Ti sto per distruggere Bene Bene Ok Chuck Io direi di creare un portale Del nether E vedere all'interno Se anche i mostri Come il gas Sono Giganteschi Ti immagini che anche i blitz Sono giganteschi Chuck E troviamo subito le voltezze Itz Guarda cosa c'è scritto Cosa Cosa c'è scritto Ciao Iscrivetevi Bravo Chuck Ottimo Ottimo Ok ragazzi Creiamo questo portale Del nether Ok Chuck Io direi di procedere Intanto io ti proteggo Da questi zombie Vieni qua Vieni qua Magari mi dà anche a me Una spada In netherite Vediamo Vediamo Oh Attenzione Chuck Guarda cosa ho preso Mamma mia Mamma mia Ragazzi Guarda Ho preso l'arpione Ho preso l'arpione Chuck Serve un portale gigante Oh L'axolot gigante L'axolot Anche l'axolot L'axolot Adesso non c'è più Ok Un portale gigante Per omini gigante Ma chi Chi mi sta uccidendo Mamma mia Questo scheletro Mamma mia Quanto sei fastidioso Vieni Vieni che ti uccido Vieni che ti uccido Vieni Vieni Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei L'hai creato L'hai creato No aspetta Oh No ma come lo stai creando Che cos'è questo Che Ho sbagliatamente lo sbaglio No vabbè Chuck Secondo me non funziona Stai creando Il panico Guarda 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 Ci stanno guardando Ma Che 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 Vediamo Oh Wow Ragazzi Un portale Davvero gigante Per i veri giganti Prima di procedere Ragazzi Però Ve lo faremo Vedere una prossima Volta Ma prima di farlo Vi ricordo di iscrivervi Al nostro canale E lasciare Tantissimi I like Ciao Ragazzi Ciao Ciao